Buongiorno da Edo, e così ieri c'è stato questo attesissimo evento Google che ha presentato nuovi prodotti e integrazioni con l'intelligenza artificiale che poi è arrivato a 24 ore di distanza da un analogo evento Microsoft in cui è stato presentato il nuovo Bing con ChatGPT integrato. Allora, prima di tutto, due cose da dire. Intanto che entrambi gli eventi sono stati comunicati in modo repentino e poi tenuti sotto tono negli uffici delle aziende. Quello Microsoft era nella sede principale di Redmond e quello Google a Parigi, dove a quanto pare risiede la principale unità operativa di Google AI. Il primo tra l'altro senza live stream, mentre quello Google in live stream su YouTube, ma appunto con pochissimi fronzoli, praticamente in una specie di sala conferenze interna con poche persone, boh. E poi la seconda cosa è che è evidente che c'è un problema a comunicare alla gente queste cose, perché forse la gente di queste cose non frega più niente. Cioè ChatGPT ha fatto il botto immediatamente, tutti postavano su Twitter i testi simpaticissimi in rima generati dall'IA. Poi questa roba si è spenta gradualmente e adesso tutto questo entusiasmo forse non c'è più tanto. È che, cioè, le due principali aziende software del mondo presentano i più avanzati strumenti di intelligenza artificiale aperti al pubblico e boh, passano un po' così, ma sì, carino, che altro c'è? Il fatto è che Google ha ragione e l'ha scritto anche sul blog e ci ha tenuto a ribadirlo anche in conferenza, che i sistemi di IA sono già parte integrante di tante app pubbliche di Google da molti anni, solo che semplicemente non c'era questo hype intorno alle parole IA generativa. E quindi era implicito, per esempio, il riconoscimento dei testi nelle immagini, il tracciamento delle rotte su Google Maps con anche quelle nuove che calcolano il minor consumo di carburante, Google Translate, eccetera. Cioè, dentro tutto questo, però, l'evento in sé, sto parlando dell'evento di Google adesso, cioè è stato veramente, io credo, uno degli eventi più imbarazzanti che io abbia visto recentemente. Cioè, era brutto tutto, erano brutte le grafiche sulle slide di presentazione con un testo e con le presentazioni degli speaker sul palco con questo font orribile. Era brutta l'illuminazione, era brutta la sala, la regia, con delle stranissime inquadrature che ogni tanto saltavano dalla parte all'altra con una confusione incredibile. Delle volte indugiavano sullo schermo, sul telone, insomma, dove venivano poi i tattoli slide. Indugiava lì quando non c'era niente da vedere. Bianco, perché il tizio magari stava parlando, e questa telecamera che indugiava su una slide bianca, oppure con un titolo che compariva lentamente, così, in modo veramente amatoriale, praticamente. Poi non c'era Sundar Pichai, cioè per carità c'erano i VP di Google Search, c'era Prabhakar Ragavan, c'era Liz Reed, ok, però non c'era il grande capo, insomma. Poi vabbè, già nell'annuncio del prodotto, che doveva essere, insomma, il core di questo evento, cioè Bard, questa intelligenza artificiale conversazionale, ecco, già nell'annuncio di questo evento hanno presentato Bard, e hanno fatto l'esempio di una richiesta, di una domanda a Bard, per raccontare uno dei fatti intorno al James Webb Telescope, ecco, una di queste risposte conteneva già un errore, e già questo apparentemente gli ha fatto perdere il 10% del valore in borsa, cioè tipo 100 miliardi. Poi vabbè, momento top cringe dell'evento, quando la VP Liz Reed ha finito di parlare di multi-search, e a quel punto vuole fare una demo, chiede lo smartphone per fare la demo, e non c'è questo smartphone, e quindi c'è lei lì che dice, ma lo smartphone, ah non, se è perso, scusate, abbiamo perso lo smartphone, niente, poi dopo, eh, Prabhakar quando ritorna sul palco, fa la battutina, qualcuno ti ha rubato lo smartphone, eh sì, un evento ufficiale Google, si perde lo smartphone della demo. Invece, come già si sa, Microsoft ha presentato il nuovo Bing, con una versione migliorata di GPT 3.5, cioè il modello alla base di ChatGPT, e questo modello nuovo, diciamo migliorato, Microsoft lo chiama Prometheus Model, che però io non ho capito bene quale sarà la nuova effettiva home page di Bing, perché si sono viste varie versioni, cioè una con i normali risultati di ricerca, e a fianco delle note generate dalla IAP, poi ce n'era un'altra, tipo in stile ChatGPT, un chatbot dove fare conversazione. Comunque, a quanto pare, questo modello è in grado di combinare i risultati del suo training con informazioni fresche, presentate in internet, quindi non dovrebbe dare risultati obsoleti, potrebbe comunque dare risultati sbagliati, o incompleti. Questo l'ha specificato anche Microsoft, e c'è una nota sulle ricerche di Bing, che dice appunto che potrebbero essere sbagliate le informazioni che si vedono, quindi questo problemino, non da poco, diciamo che non è stato ancora superato. Comunque, questo nuovo Bing è disponibile in preview per vedere come si comporta con delle query prestabilite, poi c'è una lista d'attesa per avere accesso quando sarà sbloccato. Ma torniamo a Google, perché Google ha deciso di presentare un elenco di prodotti con IA integrata, alcuni evidentemente non pronti, perché non sono aperti al pubblico, tranne alcune feature in rollout in alcuni paesi, e vabbè, le cose più interessanti che ho visto durante questo evento, ripeto, abbastanza imbarazzante, c'è questo cosiddetto multi-search, cioè puoi iniziare a cercare con il motore di ricerca immagini, che poi hanno detto più volte che la fotocamera è la nuova tastiera, vabbè, quindi tu cerchi un'immagine e poi usi il testo per specificare altre informazioni, tipo fotografi una tenda, la cerchi e poi dici la voglio rosa a poire, e quello ti trova tende simile a quella, ma di quel colore lì, una roba del genere. E questa roba qua dovrebbe già essere disponibile su Google Lens. Poi ci sono vari miglioramenti a Google Maps, sia per la navigazione in auto, che per quella a piedi, pure indoor, con le indicazioni in alcuni aeroporti, che comunque sono molto fighi, ma diciamo niente di spaccamascella. Ah, una cosa carina su Google Translate è la sostituzione del testo nelle immagini aumentata dalla intelligenza artificiale, cioè voi per esempio fotografate un cartello autostradale in spagnolo, ora applicherebbe il testo italiano sopra quello spagnolo, che non vi fa vedere quello che c'è sotto, invece con questa nuova versione vi sostituisce il testo spagnolo con quello italiano, ricostruendo l'immagine che sta sotto, quindi la sostituzione sembra praticamente avvenire dentro l'immagine, che comunque è una cosa piuttosto carina, carina da vedere, una cosa interessante. E poi devo dire io, la cosa più figa di tutte che ho visto è la nuova Immersive View, che c'è in alcune città, poche città, in cui ricostruisce tutto l'ambiente 3D esplorabile, e sembra davvero molto carino. È un giochino, anzi lo vorrei provare in realtà virtuale, però è molto figo. Tra l'altro, cosa che non ho capito come sia possibile, hanno fatto vedere che a un certo punto da Street View sono entrati dentro un bar dalla strada, e tutto veniva ricostruito, tutto l'interno del bar con i tavolini, hanno detto che quella roba è generata dalla IA, ma io non ho capito come sia possibile, né quando e dove sarà disponibile. Secondo me, qui c'è il fortissimo rischio di una gigantesca sola, però se è vera questa roba, è incredibile. Poi vabbè, mi ha fatto ridere che con Immersive View puoi praticamente vedere una zona della città in varie condizioni meteo, ore del giorno, e hanno cercato di giustificare questa roba, invece di dire è un giochino carino, hanno cercato una motivazione commerciale, perché così se ci vai un giorno a vedere un monumento e quel giorno c'è il grigio, un nuvolo, ecco, puoi vedere come sarebbe con il sole, una roba così abbastanza terrificante. E vabbè, poi naturalmente il succo dell'evento doveva essere Bard, che è questa nuova chat con la IA, che dovrebbe fare concorrenza a chat GPT e Bing, ma niente, si è visto solo una brevissima demo e poi l'annuncio di lancio di testi interni e basta da lì. E lì ho capito perché non c'era Sundar Pichai, cioè per sta roba non si scomoda il grande capo. Cioè, quindi, evento Microsoft, meh, però almeno hanno lanciato un prodotto che ora in parte è testabile e comunque hanno fatto vedere qualcosa di sensato. visto l'evento più cringe di sempre e poi non c'erano prodotti diciamo super innovativi pronti al lancio. Poi ci hanno tenuto molto a dire che la IA deve essere usata responsabilmente, cosa che avevano già detto, che stanno molto attenti a lanciare al pubblico questo tipo di prodotti e io gli credo, eh. Cioè, Microsoft sta fronteggiando diversi guai legali con le IA e ne arriveranno altri e io sono sicuro che Google prende la cosa molto seriamente. Però ecco, secondo me è totalmente sbagliata la comunicazione al pubblico di questa roba. Cioè, capisco l'intento ma l'esecuzione per me è proprio sbagliata nei modi e nei toni. Cioè, qui Google mi ha stupito in negativo. Sta facendo degli errori grossolani e potrebbe pagarli molto cari. Vediamo cosa succederà da qui al Google IA. E questo era anche tutto per il recappone delle conferenze Microsoft e Google. Ho cercato di fare un po' un mix di quello che ho visto, quello che mi è piaciuto e quello che non mi è piaciuto che è un po' di più e quindi grazie per avervi seguito anche in questo episodio e noi ci vediamo a un prossimo. Ciao! 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 Grazie a tutti.